Questo video verrà pubblicato giovedì notte, ma allora andiamo a parlare del Gran Premio del Belgio Bentornati in questo video, ma questo vuole essere un video rappresentativo Perché voi in estate dove state se vivete in un palazzo, in terrazzo Quindi ragazzi andiamo a parlare in terrazzo del Gran Premio del Belgio Lo parlerò a voce bassa, quindi alzate il volume Ma prima iscrivetevi al canale perché adesso parte una serie Parte Formula Summer, questa roba la faccio ogni anno Poi non la concludo mai, però questa volta sono determinato a farlo Parleremo ragazzi di alcuni argomenti in vista del, fino al prossimo GP, quello dell'Olanda Perché amo ragazzi parlare del Formula 1 Non so se fare il post GP dei MotoGP perché comunque il MotoGP ci capisco di meno di Formula 1 oggettivamente Però mi piace tantissimo anche quella Ma quindi ragazzi iniziare, iscrivetevi al canale per favore perché siamo, boh, 36, non me lo ricordo C'ho 200 video su sto canale, quanto cazzo esplode Comunque allora abbiamo tante cose di cui parlare perché c'è ragazzi 10 vetture in 10 secondi, se mettiamo anche George Russell Una Formula 1 a livello di spettacolarità che io almeno non ho mai visto Anzi l'ho vista perché io ho vissuto il mondiale di Hamilton e Verstappen Contate che io seguo la Formula 1 nel 2021 e per quanto la seguo da poco lo amo Ma comunque il livello di competitività per così tante scuderia non l'ho mai visto Perché comunque penso che sia una roba abbastanza storica Cioè non penso che ci sia veramente Togliete dai, fate dagli anni 70 in voi Io non penso che sia mai esistita questa roba Cioè forse il 2012 ma il 2012 non era per competitività delle macchine Ma perché erano proprio le gomme Pirelli sminchiate Cioè ve lo ricordate la vittoria di Maldonado Cioè ma stiamo scherzando Maldonado è come se adesso Stroll va e vince Ma neanche Stroll, Sargent Ragazzi Sargent che vince Cioè ve lo immaginate Sargent che vince Ma comunque un livello di competitività che qualcuno aveva provato a dire Potrebbe essere che vedremo a un certo punto del 2024 le auto quasi uguali E io presi per il culo quella dichiarazione Ma oggettivamente è vero Ma non è vero ragazzi solo nelle top 4 Ma io sono certo che con qualche aggiornamento si potrebbero avvicinare tante scuderie Perché ragazzi la Haas Cioè vedete il midfield Prendiamo le 6 scuderie che non sono le big 4 Abbiamo la Haas, la Sauber, la Williams, la Racing Bulls Abbiamo l'Alpine e la Ston Martin Ragazzi il gap da Aston Martin Racing Bulls, Alpine e forse in alcuni Gran Premi anche la Williams È veramente da molto Cioè l'Alpine ve la ricordate inizio stagione che era veramente un trattore Adesso l'Alpine può tranquillamente stare a zona punti Nei Gran Premi dove riescono a fare bene sia i piloti che la macchina Ma ragazzi il midfield è molto combattuto E io penso che a questo punto potrebbe arrivare anche la Sauber Che magari azzecca finalmente un pacchetto di aggiornamenti E potrebbero tranquillamente andare in zona punti È un po' un dispiacere vedere onestamente Joe e Bottas in quelle retrovie Perché comunque Joe è un pilota che All'inizio ragazzi penso che tutti un pochino non ci piaceva Perché comunque era arrivato al posto di Joe Vinazzi Che oggettivamente era per gli sponsor Ma Joe è un pilota buono Cioè io onestamente Joe me lo terrei al posto di Jack Doan Jack Doan non lo so perché ma non mi piace proprio Cioè mi sa proprio di pilota scarso Teoricamente dovrebbe andare lui in Alpini Io ho detto che secondo me potrebbe andare Joe A parte che io ero convinto a un certo punto che sarebbe andato Carlos Sainz Perché era tornato creatore e tutta quella roba Quindi ho pensato vabbè Carlos Sainz va in Alpini Invece va in Williams Però di questa ne parleremo in seguito Cioè vedete ragazzi secondo me si potrebbe veramente arrivare a un certo punto L'anno prossimo dove siamo alle linee di partenza E ci troviamo veramente con 5-6 vetture quasi alla pari Sarebbe il sogno perché il sogno di Alonso Dire finalmente abbiamo le vetture uguali Adesso vi faccio il culo bastardi Ma comunque Gran Premio è molto particolare Perché l'aveva vinto Russell con una strategia a una sosta E Leclerc partiva in Pol Ma sapevamo che ci poteva fare poco Alla fine è arrivato quarto Un Gran Premio che abbiamo saputo un pochino di Gran Premio d'Azerbaijan Dove del 2021 Dove Leclerc azzecca la Pol Ma poi non può fare nulla nei rettilini Perché lo sverniciano E queste ragazze di Mercedes Che continuano ad avere veramente una grande Una grande crescita Nei prossimi Gran Premi ragazzi I prossimi tre Gran Premi prendiamo anche quattro Sono Baku, Italia Anzi scusate Zandvoort, Italia, Monza Baku e Singapore Penso che saranno Gran Premi molto particolari Perché secondo me la Ferrari potrebbe avere una crescita esponenziale Ma la potrebbe avere anche la McLaren L'unico dove penso che veramente possa vincere la Red Bull Non al 100% ma una buona probabilità Dove la mettere al momento favorita è Zandvoort Ma soprattutto perché c'è ragazzi anche lo stesso Lo stesso coso Lo stesso Verstappen E dubito che la Ferrari riuscirà ad andare bene là Ma vi spiego il motivo Perché Zandvoort è una serie di curve veramente veloci Quelle che sono lente quali sono Forse il tornantino Non il tornantino La sopraelevata E la chicane finale La chicane finale prima dell'ultima curva Quelli sono i punti dove Ferrari andrebbe forte Ma no ragazzi La Ferrari penso che sia la quarta forza C'è da vedere per me Red Bull Con Verstappen potrebbe andare bene Poi c'è da vedere perché tutti porteranno aggiornamenti Io penso che la Ferrari potrebbe fare Un po' come l'anno scorso Che stavamo sempre andando male Ma che poi a Monza arriva la risposta dei piloti E arriva la risposta della macchina Perché là ragazzi Conta tanto l'assetto Conta tanto Non lo so ragazzi Io potrei prevedere anche Una McLaren super competitiva A Monza Però anche la Ferrari che potrebbe fare bene Baku è molto da vedere Perché comunque la Ferrari è un bel motore Però forse le curve lente che ci sono Perché comunque le curve lente Cioè sono tantissime Un cittadino piccolino Cioè Baku ha curva 1 Abbastanza lenta La terza massimo quarta marcia Ma neanche Proprio da fare in terza Quella è come curva 2 Che sono entrambe curve a 90 gradi Poi un'altra curva a 90 gradi Che rientra Ragazzi Forse la Ferrari potrebbe andare bene Conoscendo anche l'abilità Che ha Leclerc Se non la va a mettere a muro A Baku Secondo me potrebbe andare Veramente molto bene la Ferrari Stessa cosa a Singapore Io l'anno scorso No due anni fa Pronosticato pieta A Singapore Gran premio nel 2022 Vince alla fine Sergio Perez Sergio Perez Secondo me tra Singapore E Baku potrebbe avere l'opportunità E sono serio Di vincere Perché alla fine Perez è stato confermato Vorrei farci un video sopra Ma Perez è stato confermato E vedremo comunque Questo gran premio alla fine Ragazzi Russell vi stavo dicendo Ha fatto una grande strategia Rimanendo fuori Sembrava un po' impossibile Però alla fine è riuscito con quello stint Ma la squalifica è sacrosanta Perché lui ha un chilo e mezzo in meno E uno potrebbe dire Sì su 798 Un chilo e mezzo fa la differenza Assolutamente sì Perché sono centesimi guadagnati in gara E senza quei centesimi Che dovrebbe fare circa 2-3 secondi Non avrebbe mai tenuto dietro Hamilton Quindi più che giusto Vittoria che passa Hamilton Centocinquesima Vittoria in carriera Secondo Piastri Terzo Leclerc Quarto Verstappen Quinto Norris Dietro poi Sainz Perez Alonso Con e Daniel Ricciardo Chiude la sezione punti Leclerc ha fatto quello che poteva Sputato di tutto Piastri Piastri ha sbagliato Il P-stop Senza alcun dubbio L'ha sbagliato Perché se no vinceva Non so se Aspetta Non vinceva Però forse sì Perché comunque davanti a Hamilton Si poteva mettere in effetti Beh Contato che ha perso 2 secondi Però c'è da dire che Hamilton È un cane da sorpassare Soprattutto anche per la vettura che ha Leclerc è stato molto bravo A tenersi dietro Verstappen Che fa vedere le difficoltà di Red Bull E Norris Ragazzi ancora una volta Norris Non è secca la partenza Ma Norris Prima stava simpatica Adesso mi sta sui coglioni Ma è un pilota Veramente che ha tanto da maturare Cioè Piastri L'anno prossimo Se veramente La McLaren si confermerà Essere così tanto competitiva Piastri potrebbe veramente Mettere le palle in bocca a Norris E Norris potrebbe soffrire tanto La pressione del suo compagno di squadra Perché Norris secondo me È un pilota Molto triste Molto Che si fa condizionare Quindi secondo me potrebbe perdere Poi Norris Non è un Leclerc in qualifica Perché Leclerc È uno dei migliori piloti De la storia Che sia chiaro In qualifica Non guardate i dati Ma ragazzi Leclerc in qualifica È un qualcosa di straordinario È uno dei migliori In la storia E non mi penso di quello che dico Leclerc È un pilota che io critico spesso Ma che è uno dei migliori In la storia In qualifica È in dubbio Almeno top 5 Cioè davanti che c'è Fettel forse Senna Leclerc ragazzi È uno dei migliori Senza alcun dubbio Ma comunque oltre questo Norris ha un buon passo in qualifica Cioè Il passo gara È mediamente buono Però Non lo so ragazzi Norris ha quale partenza Se Norris non sistema le partenze Rischierà di fare un pochino Come Hamilton nel 2016 Cioè Hamilton nel 2016 Sbagliava tutte le partenze Incredibile Ma Norris lo divedo tanto Norris Non so se vincere mai in mondiale Però l'anno prossimo Se Piastri Si continua così Potrebbe fare veramente bene E poi abbiamo Perez Che è stato confermato Ragazzi Perez Ve l'ho detto Ci voglio fare un video Ma sono contento In questa mettere Ma Vi spiegano i motivi Poi dietro Alonso Con Ricciardo Arrivato a punti Anche lui Stroll dietro Ragazzi Stroll Lo vedremo nel paggellone Ma sta facendo veramente Una bella stagione Mentre invece Williams ha un po' buttato Le opportunità di arrivare a punti Secondo me Cioè Ci potevano arrivare Il primo stint di gare È stato molto buono Poi abbiamo ragazzi Sergiant Bottas È veramente brutto Vedere una squadra Come la Sauber Che è una squadra Che mi è sempre stata simpatica Poi potrà puntare tutto Sul 2026 Però Cazzo ragazzi In questa stagione Tutti stanno prendendo punti Come nella scorsa Ma quest'anno ancora di più Perché comunque ci sono cambi Da ogni parte Nel midfield Nella media Bassa classifica Più che altro Nell'altra classifica Cioè tutti hanno le chance Vedremo se magari La Sauber Riuscirà a raccimolare A qualche punto Non penso Però ci potrebbero provare Detto questo ragazzi Questo era il primo video Da Formula Summer Mettiamola così Io comunque Ci tengo a salutarvi Per cordialità Io vi invito A iscrivervi al canale Ci vediamo Nel prossimo video E fui bravo